Le cooperative sociali in Campania rappresentano una forza di circa 5.000 occupati e sono una risorsa per le pubbliche amministrazioni, chiamate, mai come in questo momento storico, a dare risposte sul fronte dei servizi al cittadino sfiancato dalla pandemia e stritolato dall'aumento dei prezzi per effetto della guerra. Arriba a dirlo è lo stesso sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto questa mattina all'assemblea elettiva di Confo Cooperative Feder Solidarietà Campania. Il ruolo fondamentale delle cooperative sociali per garantire servizi che siano capillarmente diffusi e siano in grado di dare una risposta ai tanti bisogni di una società complessa come la nostra, che trova poi a Napoli, un luogo dalle tante fragilità, dalle tante marginalità, una domanda particolarmente forte. Quindi è un confronto importante, il comune è presente, il rapporto col sistema delle cooperative sociali e con le offerte che da questo mondo vengono è molto solido e noi ci auguriamo che da questa cooperazione, da questa sussidiarietà, noi riusciremo a trovare l'infa per poter garantire finalmente alla città e ai suoi cittadini una qualità di servizi che tutti si aspettano. Intanto cresce l'attesa per l'evento organizzato dalla ministra per il Sud Mara Carfagna per venerdì e sabato a Sorrento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il tema sarà il mezzogiorno per presentarlo agli investitori, alle imprese, ai paesi del Mediterraneo e raccontare loro le enormi opportunità che si apriranno al Sud per i prossimi cinque anni.